E anche questa settimana cari amici di Teleradio Padre Pio salta l'appuntamento con un frate per amico come abbiamo cominciato la scorsa settimana vogliamo parlare di San Giuseppe Maria Tomasi proprio in quest'anno in cui ricorrono i 300 anni della scomparsa di San Giuseppe Maria Tomasi Cardinale Teatino. La scorsa puntata Giaddo Mildebrando ci ha raccontato, ci ha presentato questa figura di studioso, di cardinale e di uomo impegnato all'interno della chiesa. Figlio del duca di Palma di Montechiaro celebre famiglia nobile proprio siciliana di Lampedusa rinunciò a titolo a favore del fratello e si fece religioso come abbiamo detto Teatino. Grande studioso di liturgia, ne abbiamo visto la scorsa puntata affronteremo anche in questa puntata, daremo grande spazio proprio allo studio della liturgia scrisse libri contro gli eretici dell'epoca, esercitò importanti incarichi nella curia romana e ricevette la dignità cardinalizia. È stato canonizzato nel 1986. San Giuseppe Maria Tomasi sacerdote dell'ordine dei chierici detti teatini e cardinali nell'ardente desiderio di rinnovare proprio quello che è il culto divino passò quasi tutta la sua vita alla ricerca e a ricercare e pubblicare antichi testi e documenti della sacra liturgia e si adoperò molto come abbiamo ascoltato nel catechizzare i fanciulli. Infatti la sua vita fu davvero quella di un dotto studioso senza trascurare però i doveri di sacerdote, di religioso, della sua intima vita spirituale e prese come abbiamo detto a pubblicare molte opere di liturgia e di scienza sacra però si occupò anche dell'istruzione pubblica di Palma e già la scorsa volta abbiamo visto quanto di quanto si è occupato proprio sui testi sulla ricerca e sulla pubblicazione di questi testi soprattutto sulla liturgia. In questa puntata Don Mildebrando vogliamo proprio chiarire ecco come si soffermò molto spesso su quella che è la partecipazione sui fedeli alla, dei fedeli alla liturgia. In cosa consiste? Partecipazione, lui insiste molto sulla catechesi, si è interessato molto alle vicende del suo paese di Palma. Abbiamo delle lettere non solo alla mamma, alla mamma scriveva signora mia colendissima, signora mia e padrona colendissima la mamma e poi alla fine si scriveva vostro umilissimo servitore e figlio e dava del voi anche alle sorelle alle sorelle monache, specialmente alcune diventavano badesse eccetera. Ma ci sono delle lettere al viscovo di Agrigento e all'arciprete di Palma. Si stava allora costruendo la chiesa nuova, quella chiesa che è descritta dal romanzo del gatto pardo con la grande scalinata e poi all'interno le colonne rosse e tozzeno. Beh quella si stava costruendo e lui da Roma dà dei consigli. Allora in queste lettere si occupa anche della catechesi da fare ai putti, cioè ai bambini e per questo perorerà la causa per la costruzione a Palma di un convento, diciamo così, di una casa dei fratelli delle scuole Pie, gli Scolopi. E di fatto a Palma c'è stato fino al 1920 un convento degli Scolopi con chiesa annessa. La chiesa è rimasta e il convento è diventato municipio adesso. Ma perché? È perché tutti avessero la possibilità di istruirsi. Siamo nel 1690. Perciò con queste lettere dava anche delle indicazioni. Delle indicazioni. Ma ha dato anche delle indicazioni per esempio all'arciprete di come costruire la chiesa. Io vorrei che Palma si diportasse come si comporta Roma, la capitale del mondo. Perché a Roma nelle chiese, nelle basiliche, l'altare sta al centro, in modo che si possa girare attorno. E poi dietro l'altare gli scanni per i... e fa un disegnino. Un disegnino di come fare la chiesa con l'altare al centro, le sedie dietro. Non parla tanto dell'ambone perché a quel tempo l'ambone non era molto usato. E poi la cappella del Santissimo si metta dal lato dove c'è il crucifisso perché stanno bene il sacramento della Pasqua con la croce. E invece dall'altra parte la Madonna del Rosario che è la titolare. Non vi sembri strano la Madonna del Rosario? La chiesa madre è intitolata la Madonna del Rosario. La festa principale è la Madonna del Rosario. Il monastero delle mone che è Santissimo Rosario. Avete notato che il romanzo Il Gattopardo comincia col Rosario? Nunca et in hora mortis nostre amen. Le donne dicevano il Rosario. Perché i Tomasi avevano combattuto all'epanto. Quando i cristiani vinsero i turchi e Pio V, il papa di allora, attribuì questa vittoria alla preghiera del Rosario che i cristiani avevano detto. E' istituita anche la festa della Madonna del Rosario. Dunque, dice come costruire la chiesa. E poi manda anche la statua. Una statua della Madonna del Rosario fatta fare a Roma e la manda a Palma. Manda a Palma anche delle reliquie di Santi, San Traspadano e San Felice e dà dei consigli come vivere. E dà dei consigli anche come far pregare il popolo. Quando parla dei salmi, per esempio, dice anche bisogna inculcare al nipote, che era il duca di Palma, il principe dell'ampedusa Giulio II, diremmo così, il figlio di Ferdinando, dice consiglia di fare delle preghiere anche con i salmi. Di dire un rosario, ma invece delle avemarie, di dire delle giaculatorie. Dunque il rosario per lui era un metodo di preghiera. Non era solo 50 rose date alla Madonna. Ma era un metodo di pregare ripetendo delle formule. Ed era devotissimo, lui, della sorella. La sorella era fama di santità mentre era in vita. La venerabile è morta nel 1699, quindi 13 anni prima di lui. E lui a Roma ogni tanto domandava cosa dice la sorella degli avvenimenti. Per esempio, morto il Papa, dice chi dice la sorella che sarà il Papa? Perché credeva nel suo carisma di profezia. Quando muore la sorella diventa l'apostolo di questa diffusione della devozione. Fa stampare le immaginette della sorella, le critica pure. Sembra la fotografia di una vecchierella morta. Dice una santa, bisogna mostrarla diversamente. E si ad opera per la beatificazione. E allora è venerabile perché il fratello si è interessato. Allora scriveva ai vescovi di Agrigento, al vescovo di Patti, ai vescovi della Sicilia perché spingessero per questa... ed è riuscito lui a farla dichiarare venerabile praticamente. E poi si è fermata la causa. Per l'umiltà di questa santa donna. È arrivato prima il fratello. Un giorno ha mandato un pezzetto della vera croce del Signore, una reliquia che lui aveva. E dice, mando volentieri questa croce a crocifissa non essendone io degno. E ci sono delle lettere bellissime. Non tutte sono lettere importanti perché molte sono lettere di affari, diciamo così, anche perché doveva aiutare, dare consigli al nipote. Qualche volta è venuta anche a Palma per regolare gli affari che c'erano. Lui sacerdote studioso ma anche molto semplice. Si racconta nella sua biografia che non voleva mai accettare, non accettava volentieri gli incarichi. Gli incarichi. Lui intanto era molto conosciuto dagli studiosi. Era un tipo piuttosto riservato, malaticcio, lavorava notte e giorno evidentemente. Preferiva alcuni. E scriveva anche, scriveva ogni sabato alle sorelle. Evidentemente voi trovate una lettera che parte da Palma oggi e arriva dopo 15 giorni. La risposta arriva dopo un mese. Per esempio ce n'è una bellissima. La sorella, non so se crocifissa o qualche altra, scrive a lui il mercoledì santo e lui risponde il sabato dopo l'ascensione. Penso un po'. E allora dice voi, perché si davano del voi, fratello e sorella, voi mi invitate all'orto degli olivi. Io vi invito al monte degli olivi. L'ascensione dove Gesù è salito al cielo. Ma è lo stesso Gesù che è stato all'orto ed è stato al monte. E poi dice oggi, ascensione, noi abbiamo preso possesso del cielo. Sulla terra si prende possesso per pedum in posizionum. Ci si mette il piede. Noi oggi abbiamo preso possesso del cielo per capitis elevazionum se uillazionum. Ci abbiamo messo il capo. Ci abbiamo messo la testa. Dunque noi siamo il corpo di Cristo. Bene. La testa oggi è entrata in cielo. Ha preso possesso del cielo. La nostra umanità, e queste lettere poi le ho anche pubblicate, questo testo è stato preso anche come lettura per la festa di San Giuseppe Tomasi. Oggi abbiamo letto di fatti questo brano di questa lettera e nel bibliario, diciamo così, teatino o della chiesa di Sicilia, perché è memoria in tutta la Sicilia, si trova questa lettera e poi c'è scritto anche Edizione Scicolone nella rivista Oteologo. Ormai è abbinata la figura di San Giuseppe Tomasi con questo indegno servitore, diciamo così, no? E per quanto riguarda la riforma, anche del calendario, ci sono delle osservazioni molto interessanti che solo col Vaticano II abbiamo messo in pratica. Mi meraviglia che il Consiglio non abbia tenuto conto di questi testi del Tomasi. Per esempio, 25 marzo si chiamava allora Annunciazione della Beata Vergine Maria e lui la chiama Annunciatio Domini, Sive Incarnatio Domini, Annunciazione del Signore o Incarnazione del Signore. Oggi si chiama Annunciazione del Signore. La festa del Corpus Domini, una volta era Corpus Domini, il corpo sotto la specie del pane, e lui la chiama Festum Corporis et Sanguinis Christi, come oggi si chiama. Oppure la festa della Santissima Trinità, lui la conosce e c'è. Avevano chiesto allora, e la richiesta si è ripetuta anche dopo, fino a recentemente, una festa del Padre Eterno. Noi abbiamo tante feste del Signore Gesù. Nasce, c'è la festa, viene circonciso, c'è la festa, la presentazione è una festa, muore, c'è la festa, padre, risorge, sale al cielo, ogni soffiata di naso, dico, di Gesù c'è una festa. Dello Spirito Santo non ce ne sono molte, ma almeno una c'è, la Pentecoste. Padre Eterno niente. E lui risponde, no, non si deve istituire. Perché? Noi non celebriamo il Padre o il Figlio o lo Spirito Santo come sono in sé, ma quello che hanno fatto per noi. Noi celebriamo eventi della storia della salvezza. Gesù, il Verbo, si è incarnato, festa, nato, festa, va benissimo. Lo Spirito Santo, noi non celebriamo lo Spirito Santo a Pentecoste, celebriamo la discesa dello Spirito Santo. Il Padre non si è mai mosso. Il Padre per sé, è per sé, non è per noi. Il Padre ha mandato il Figlio, ma già c'è la festa. C'è la festa della Trinità. C'è, va bene, a volte che ce la teniamo, però di per sé, ogni giorno è la Santissima Trinità. Noi ogni giorno offriamo il sacrificio al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito. Dunque aveva lui capito, leggendo i testi, che cosa è la liturgia nella sua teologia. E un'altra frase che voglio ricordare è, in quel libretto, istruzione, si dice, chi è il celebrante? Benché il vero, l'unico celebrante sia il Cristo, perché lui è il liturgo, tuttavia celebra la Chiesa tutta che è la dunanza dei fedeli. Perché il sacerdote per esempio dice, pregate fratelli, perché il mio è vostro sacrificio, dunque non è solo il sacerdote, ma è tutta l'assemblea, sia gradito. Oppure dice, nella preghiera eucaristica, diciamo, ricordati di tutti i circostanti per i quali ti offriamo e anche essi ti offrono. Dunque, aveva già capito quello che noi siamo arrivati a capire, o meglio a fare, con il concilio Vaticano II. La celebrazione è opera di Cristo e della Chiesa tutta. E aveva capito qual è il senso liturgico delle feste, che celebrano un evento salvifico. Dunque, un grande liturgista. Papa Benedetto XIV, che è il Cardinale Lambertini, che ha pubblicato tante opere di liturgia, pensate che i suoi testi, i testi di Papa Benedetto, poi sono stati adottati come libro di studio per una cattedra di liturgia che ha fondato poi a Zevedo un gesuita portoghese, è stata fatta una tesi di laurea su questo, voglio ricordare, è stata fatta questa tesi su a Zevedo dall'attuale rettore del santuario di Fatima, moderata da me. E allora questo a Zevedo usava nella scuola di liturgia, sia a Coimbra, sia al seminario romano, usava i libri di Lambertini, cioè di Papa Benedetto XIV. Papa Benedetto XIV chiama il Tomasi principe dei liturgisti romani. Vedete, è un uomo nato a Palma, un paese che allora era proprio di contadini, da parte il Duca, però che ha avuto rapporti con tutta l'Europa dell'epoca e devo dire come facevano, non lo so, pubblicavano, 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 studiavano, studiavano, studiavano. Ho domandato a un mio professore, poi collega, padre Adriano San, dico come mai nel grande dizionario di liturgia francese ci sono 50 pagine su Mabillon, anche qui un altro personaggio da nominare. Mabillon è uno di quei moneci benedettini, maurini, che hanno pubblicato la grande patrologia latina e patrologia greca, si tratta di 220 volumi di patrologia latina e 160 volumi di patrologia greca. Bene, il Tomasi scrive a Mabillon perché non fare un manuale di studio della teologia tutta, seguendo gli scritti dei padri, allora lui si è occupato per esempio, dobbiamo fare il trattato sulla Trinità, perché non leggere il trattato della Trinità di Sant'Agostino? Dobbiamo fare il trattato sulla Cristologia, perché non leggere il libro di Sant'Agostino? Con tutti i testi dei padri, gli amori di San Giuseppe Tomasi, poi è stato canonizzato da Giovanni Paolo II nel 1986, io pubblicando la mia tesi poi ho scritto, mi auguro che questo studio serva anche alla canonizzazione del beato Giuseppe Tomasi, vengo a farla posta dopo 5 anni dalla pubblicazione della tesi, poi è stato canonizzato da Giovanni Paolo II, evidentemente presentato come un liturgista santo, i liturgisti hanno fama di essere dei cervelli un po' strani, posso dire però che un liturgista santo c'è, ed è uno dei precursori del movimento liturgico e posso dire precursore del concilio Vaticano II, quindi celebrare il terzo centenario della sua morte credo che sia un'opera meritoria, ci sono state richieste dopo la canonizzazione da parte di diversi studiosi di liturgia, mi risulta dalla Spagna per esempio, dove i teatini sono più diffusi che in Italia, ma gli studiosi spagnoli come anche i francesi hanno conosciuto il Tomasi grazie alla mia tesi peraltro, c'è stata la richiesta di chiedere alla Santa Sede di proclamare San Giuseppe Tomasi Doctor Liturgicus, un dottore della liturgia, la cosa non è arrivata, perché i liturgisti stessi non credono a questi titoli, però di fatto lui è un santo liturgista prima del tempo, credo che sia importante che lanciamo questo messaggio e tutti lo conoscano. Potete andare a visitare la sua tomba nella chiesa, nella basilica di Sant'Andrea della Valle, è stato lì trasferito, traslato si dice, dalla prima tomba, lui era stato fatto cardinale da Papa Clemente XI, che era un suo amico da quando era cardinale, il cardinale Francesco Albani lo considerava veramente un amico, tanto che quando Francesco Albani è stato eletto Papa, prima di accettare, ha chiesto a quattro teologio da cui il Tomasi, se era il caso che accettasse o meno, e il Tomasi rispose che non sarebbe stato senza peccato rinunciare o non accettare l'elezione, e il Papa Albani accettò e si è chiamato Clemente XI, poi a un certo momento su richiesta di altri cardinali, i suoi amici, cardinale Passionei, cardinale di Aguirre, cardinale Colloredo che ho già citato, gli fu fatta la proposta al Papa per nominare Tomasi, dice ci sono motivi anche di nobiltà che non mancano, ma oltre questo c'è la santità della vita, c'è la cultura, è un dotto dei tempi, allora il Papa l'ha nominato cardinale il 19 maggio del 1612, il giorno dopo Tomasi scrive subito una lettera al Papa, che è pubblicata peraltro, dai suoi biografi, tra i suoi biografi c'è un certo Domenico Bernini, che era figlio del Bernini scultore, scritta nel 1716, cioè a tre anni dopo, dalla morte, e riportano anche questa testimonianza, dunque scrive al Papa rinunciando, non potendo accettare questa dignità perché lui era un povero frate, un povero contiatino, chiedici il regolare della madre di Dio, no, il regolare di Tiatini appunto, e il Papa rispose, ti ricordi quando io sono stato eletto Papa e ti ho chiesto se dovevo accettare o meno, tu mi hai detto che non sarebbe stato senza peccato se io rinunciavo? Beh, le stesse ragioni che valevano per me valgolano anche per te, ha dovuto accettare, è stato cardinale del titolo di San Martino Ai Monti, il titolo Equizio si chiama, ecco perché quando è morto, poi sette mesi dopo praticamente, è morto il primo gennaio, come lui aveva predetto, lui aveva predetto che sarebbe morto il primo gennaio, la festa di Santa Lipio dice, è morto il primo e la chiesa evidentemente il primo gennaio non lo può celebrare, lo ha fatto il tre, è stato sepolto a San Martino Ai Monti, una chiesa tenuta dai Carmeritani, ed era lì la tomba quasi dimenticata, abbandonata, io ricordo studente, sono andato a visitarla lì, quando ero studente negli anni 60, e sì l'ho trovata, poi i Tiatini hanno chiesto e ottenuto di portarla nella loro chiesa, peraltro la chiesa della, dove c'è il venerazione, ci sono delle immaginette del Tomasi lì vicino alla sua tomba e mi dice il postulatore, il padre Mas, voglio ricordarlo, adesso è quasi novantenne, che ogni giorno mettono delle immaginette e spariscono, cioè le prendono i fedeli, e vuol dire che ancora questi santi del passato hanno un'influenza anche nel tempo presente, mi auguro che ricordare San Giuseppe Tomasi serva anche a promuovere la causa per la beatificazione della venerabile sorella, sore Maria crocifissa di Palma Montechiaro. Grazie, grazie Don De Brando, abbiamo voluto ricordare questa grande figura di cardinale, di santo, di dottore della liturgia, vogliamo chiamarlo così. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.